Torniamo al meeting di Rimini, la prima volta di un esponente del Movimento 5 Stelle al meeting di Comunione e Liberazione. Ho ricevuto un invito, ne abbiamo parlato e sono arrivato, ha detto il deputato Mattia Fantinati al suo arrivo al meeting per partecipare ad un dibattito di intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. Sentiamo le sue parole all'arrivo. Ho ricevuto un invito, ne abbiamo discusso con alcuni colleghi e quindi noi non abbiamo paura di confrontarci con nessuno e con chiunque venga. Il Comunione e Liberazione è trasformato in Comunione e Fatturazione. Lo scriveva nel 2013 Grillo. Perché oggi l'idea è cambiata? Ma io non capisco perché voi volete vedere che l'idea sia cambiata. Noi diciamo sempre quello che abbiamo sempre detto, per noi le cose non sono assolutamente cambiate, ci invitano a dire la nostra, noi veniamo senza nessuna paura.